E allora tanto fantasma, non è? Ah, il classico contadino montagnolo Quale miglior palcoscenico per dimostrare le proprie abilità Se non quello della semifinale del mondiale, ok Ma soprattutto contro il Brasile Il Brasile, ragazzi, è forte solo in attacco C'ha Carlos Ah no, c'ha proprio il portierino un po' strambo L'ho lì, ragazzi, lo vedo un po' troppo gracile Eh no, gliela para, gliela para C'è bisogno di qualcosa di più, Snyder Nani? E non era De Vuego, ragazzi Eh, vabbè, che io fattere? Il sombrero? Nani? Eh, mo' ragazzi, vediamo un po' che succede Carlos, il cyborg del calcio Contro il portiere fantasma Sì Ok Corso risetto Ma questo si allenava contro gli orsi, raga Hein cercò di dare spinta all'attacco tedesco Ma Alberto gli rimase sempre incollato Impredendogli di effettuare un passaggio decente Eh, Alberto è forte Questi due che stavano a fare, guarda Tiri alla lunga distanza, eh Facilmente bloccati da Keisigno e Miura Eh, allora c'è bisogno di un'evoluzione di una tecnica, ragazzi Sì, quando è così Vediamo un po' qual è Calcio di punizione Vabbè, vabbè, non vuole la barriera Ma si matto Ma che cacchio fai? La punizione è uno v'uno, eh Lo shoot out Che fanno, il twin shot Ah no, gliela tocca La punizione è due Gli fa il tiro evoluto Ma ce l'hai fatto prima, no? Ta para col cazzo Che? Gli è sta tirando un meteorite Ho messo segna pure Però mi piace, ragazzi Che ogni game c'è qualcosa Che ti fa o vincere o perdere Eh, pensi sì Eh, ok, sta Heine ragazzi Questo ragazzi lo voglio nella mia squadra Nella mia squadra online E' mo' Alberto che fa un intervento spezzagambe E li vedi? Come dice no Nani Se non c'era Eh spiacevi ragazzi Come and get to the game Come and get to the game Come and get to the game I need to turn the ball into the game I'm so proud of you It's so good Miragolons Sono dei pazzi, ma che sta succedendo? Questo segno, ragazzi E' finita E' avvolto dalle fiamme, cosi? Sì, portiere, questo ti manda su Marte Eeeh, dov'è andare così, ragazzi Rete, rete, il nuovo tiro di fuego E' proprio lui Beh, ma d'altronde, ragazzi, quando i tedeschi incontrano i brasiliani Mi piace sempre male Quella era... Guarda come ride Benji Poi, in finale ti tocca a te, Paralla Paralla col cappello Non è bastato, torniamo nelle favera Mi piace sempre E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Ma se ci prenderà E' un'altra cosa E' un'altra cosa Eccato ragazzi Gli hanno dato poco spazio Ci sarebbe stata una bella partita col Brasile Con Carlos Magari allenato da Roberto Sedigno Ci siamo ragazzi E' arrivato il momento Schneider ci aspetta La sua Germania ci attende E' uno squadrone Andiamo alla riunione tattica del mister E' rimasta a bocca aperta pure lui Siamo in finale non ci credo manco io Ve la racconto io tanto questo non capisce niente Uno con gli occhiali ragazzi O è del 1980 Gli si è fermato il tempo Muller il portiere fantasma E' prepotentissimo Chester e Carlos Sono due centrocampisti molto forti Ma noi dobbiamo tenere d'occhio soprattutto Ayn in attacco Caroline Schneider La backstory del padre ragazzi Che era stato un suo allenatore Poi era diventato allenatore dell'Hamburgo Aveva litigato con il giocatore di maggior spessore di quella squadra E l'avevano allontanato Insomma lui gioca solo per rendere fiero il padre Per questa occasione noi avremo un super tiro No dai ma che è Dai signori Tsubasa La Germania Favorita per la vittoria Squadra numero uno in Europa Il paese che ha sconfitto l'Italia L'Olanda Il Senegal L'Argentina e la Francia Ma ma però loro hanno battuto il Brasile Però so una cosa ragazzi So che si può fare Un'altra storia Come detto Le scelte vanno a modificare un po' Questa modalità Ecco Una di queste È quella di avere L'amicizia con Carlos Il cyborg del calcio Al massimo Quindi sicuramente facendo una seconda run In quel caso La finale Non sarà contro la Germania Ma contro il Brasile È il modo per sbloccare poi la squadra E tutti i suoi giocatori Ma che figata Vabbè per noi sarà questa la storia Questo se li porta dietro come Come i cani Magari No vabbè ragazzi Ma lui è un gatto nero A parte no Ha detto no Vinciamo sicuro Ha perso Vince sicuro la Germania Ma nessuno ragazzi Ma chi è dalla Germania Va giù in Argentina Sto prima io A pezzo da merda Vabbè questo Benji Non avevamo dubbi Che poi in realtà ragazzi Noi ci si scherza Ma Benji Ti offre una certa sicurezza Nella modalità online Si con la faccia Si con la faccia la prende Eeeh Ti annuncio già Che farà malissimo No No Veramente Un gol più di loro Ma è la finale di Coppa del mondo Per voi Ragazzi non ve lo vorrei dire Il portiere fantasma della Germania Alto quasi due metri Lascia le sue montagne Per partecipare al torneo Iyo iyo dai Con la scena di勝re Ma io Questi sono fortissimi ragazzi Questi sono una squadra A parte Marguse In questo gioco se sei biondo sei forte E infatti il nostro è biondo Andiamo a vince Chi vincerà? Eh lo scopriremo se mi fate giocare Le partite durano tre minuti ragazzi Ma tutto quello che c'è prima Eccolo Nardelli, Rusciano, Gino Hernandez Missione speciale disponibile Allora vediamo che dobbiamo fare Ottieni una valutazione di tiri di almeno A Con la tecnica tiro guidato impostata Ok per prendere il neo drive shot Ah il super tiro di Yoli Assolutamente Comunque la Germania capisci che è uno squadrone Dal fatto che ha pochi bot sostanzialmente Noi siamo 180 No che dico 1825 come potenza Ecco il capitano Tsubasa Con il suo eccezionale gruppo di atleti Ragazzi guardate ho messo Giulia Ross a centrocampo E Danny Mello Oddio sono molto più forti di noi Oh no Vabbè lo sapevamo Abbiamo una missione Si va Dobbiamo segnare con Yuga su assist di Sawada E con Tsubasa con assist di Danny Mello Danny Mello come si chiama Ui Kals Bravo Bruce Harper Eh no Aine 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 no Guarda questo Ma no ma non si può iniziare subito così Per favore Va bene la vara spero Ma dai Benji Ma sei una busta di Fabe Ma come si fa Primo tiro Primo gol da 100 campo Ma no ragazzi Quello era pure cascato Ma che succede Ma no ma solo Ma le para tutte da fuori gare Cosa Dai Benji Sei una busta sei Dai Ci avranno ragione Una busta di fare Vabbè regà Snyder è impossibile Vabbè Snyder è impossibile Tiro di fuoco Dai Ha tirato Ma questa è la pari Questa separava Dai Ma come mantenete questa posizione Ci stanno a fare il bucio del culo Capirai Meglio fa il gol Ho capito In tutto questo Noi ancora non facciamo un gol Mi è arrivato il momento Capite Bravo Mike Bravo Fai il tiro da Ticre Suprema Eh sto dentro la porta ragazzi Sto dentro la porta Eh non può niente Müller Me lo sciupa Eh portiere fantasma Eh Beh ragazzi Stavo dentro la porta 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Il signor Yuga Tiro guidato Vai Mike Scaldiamo le mani al suo portiere Eh vabbè Ci sta ci sta No Dai Mike La puoi vincere La puoi vincere Dai che la puoi vincere Eh vabbè questo ragazzi È il portiere Proviamoci ragazzi Noo stronzo C'è il secondo tiro Nooo Ho caricato il super tiro Noo ce l'avevo ragazzi Ce l'avevo Ma che vuol dire Paggina 52 del caderno Ma che ne sa lui Vabbè Andiamo a dare il messaggio Di Ongo A Oliver Hatton Ah è infortunato Lo sapevo ragazzi Corrello dai Lo sapevo che era infortunato Sì ma non è che ti puoi rompere una gamba per giocare Ma che vuol dire Vabbè, mamma mia Sarebbe bello giocare, non so Sì, ma pensa alla partita Non sta a pensare a Roberto sugli spalti No, vabbè, ma crea Vabbè, ma te se... No, questo tira Mazza, ragazzi, è velocissimo Vabbè, questo è chiaro, ci sta, ci sta Bravo, 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 bravo Ho capito come gioca Snyder, ragazzi Prende palla e tira Mi ricordo un certo McLender Eh, però qualcuno gli deve andare davanti Oddio, stava a caricare il super tiro, ragazzi Vai, Gito Non è fatto No, l'ha presa Grande Benjamin Brava Benjamin Nooo Ma non l'aveva caricato Oh nooo Vabbè, questo è gol sicuro, ragazzi Eh, Benji Spiace L'avevamo già visto, ragazzi Ma poi sarebbe arrivato Guarda, ha tirato da lontano Non c'è manco entrato in porta questa Ma intanto parte questo, ragazzi Intanto parte questo Sono troppo forti, sti maledetti E vabbè, amico mio Tra l'altro questo mi sa che è il secondo tiro che facciamo Aspetta Oh, eccolo Eccolo Ce l'ho Vediamo Vediamo, ragazzi Il mio super tiro Nooo Me l'hanno neutralizzato Ho pure caricato Dai, questa entra Questa entra Mike Da un po' da dentro Con il tiro guidato Dove Olli ha fallito Però con Olli ci abbiamo il neo tiro Quindi dobbiamo fare il super tirone Qua, ragazzi, è pallonetto proprio E Müller muto Bravo, Matsuyama Ce l'abbiamo No, ragazzi Parala, parala, parala Bravo Vabbè, gli ha tirato la casa sua, però Ma non puoi sbagliare così Oh Supplementari, supplementari, supplementari Nooo Bravo No, ragazzi Io sto a un tiro dalla morte No, sto a un tiro dalla morte No, nooo No, no, no Eh Sì Oh, 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 oh Da casa mia, da casa mia, ragazzi Provo da casa mia È l'ultimo tiro All'ultimo secondo Michael è spettacolo Ci prova Te mangi nientra No, eh Ti ha tirato una pannocchia Fraga Uh Perché si va ai rigori Ma no, ai calci di rigori Nooo Ma ai calci di rigori Nooo Si va ai calci di rigori, ragazzi Bello La spiazza Beh, avrei preferito un epilogo migliore per questa cosa Dove andrà Schneider Schneider contro Benji Il campo, ragazzi, è Oddio, sta preparando tutto al massimo Al centrale Caga sotto È lui L'uomo Carica al massimo Eh, invece me lo sciucci Ci hai provato Ci hai provato Sappiamo che la possiamo parare Su Eh Oh, ma li para tutti Oh no Oh no No, ho detto di là Non ha già Misaki Nooo Benji Schuster Oh Si Benji Idolo E adesso è tutto nelle mani di Clifford Yuma E i suoi piedi quadrati Un gigiante contro un altro Si Bravo Clifford Bravo Clifford Dai Max, ragazzi Ma chi è? Max pericolo Dai che è un bot Lui è un bot È un bot No Eh Portiere contro portiere Müller No Benji 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 Finisce qua Ah no, manca l'ultimo Hardwich Sbaglia l'Hardwich Eh Benji Price Ok No, ragazzi Ma lo tocca a Bruce Harper Ah no, no, no C'è ma ancora Saguata Dai Danny Mello Bravo Danny Mello Centrale Così, ragazzi Il papagno centrale Hein Hein Per la sconfitta dalla Germania Su, 7 a 6 7 a 6 Io vado là No, ma scherzato Raga, guarda Me la sbaglia Bruce Harper Benji Price La bomba centrale Dritta per dritta Benji No, raga Bruce Harper Ma come si fa Bruce Harper Ragazzi Tira una bombazza centrale Come va, va No Lo butto dentro Bruce Harper è un pazzo Ok, ragazzi Ok, ragazzi È finita È finita Ci siamo giocati il jolly Questo non c'ha gli occhi Non c'ha gli occhi Sono coperti dai capelli Deve sbagliare per forza Meyer Il Wuster Oscar Meyer Benji Price No No Ma come Ma non ci vede Questo È spettacolo Torna Sul dischetto Con incredibile potenza Bravo Mister Girandola di emozioni Ragazzi Di nuovo Benji Contro Sniper Non finisce più questa partita No, mi sa che è centrale È centrale No, no, no L'ha sbagliata proprio lui L'ha presa Olli Hai sbagliato prima Non sbaglia adesso Ma centrale Ti ho detto Deve tirarla Ma beh La deve sbagliarla La devi sbagliare Ecco Eine Regalerà Il titolo Alla sua Germania Ma no Siamo stati sconfitti 10 a 11 No Ma devo rigiocare Ma no Eh Cos Cos Ragazzi La sto rigiocando Ovviamente Perché quella Era la mia partita Originale L'abbiamo persa I rigori Però Devo vincere Per forza Guardate che sta succedendo Vediamo un po' che fanno Che fanno Il doppio tiro Oh Ce l'ho fatta Cosa sta succedendo Oh mamma mia La presa Va bene C'è credo Dai ragazzi Allora Sbettiamola qua La presa Niente ragazzi Pensavo che questa era col sicuro Non esiste la parola resa Ma esisterà la parola sconfitta Vai 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 Mike Io lo butti dentro Dai Vinciamo con un gol nostro Su Oh se ne verrà pure questo Ragazzi Ho pulato portiere Ho pulato portiere Usciva Ma è entrata E andiamo Solo che non ho fatto Quello che mi chiedevano Beh no in realtà Beh no in realtà Vavate vinto però Donna così C'è ragione Gammati Lavorare più sodo Eh E' un'altra E' un'altra S'è un'altra E' stata una partita veramente difficile Adesso l'ho rigiocata ragazzi Sto più veloce Purtroppo non ho preso il tiro Per il mio mister spettacolo Vabbè alza l'alta capitano Alza l'alta Abbiamo sempre con la mano sul cuore Giuliano Rossi Vabbè ragazzi abbiamo vinto con Bruce Harper in campo Tutti sporchi pure quelli che non hanno giocato Che posso dire Ma non male che non lo dice Giuliano Rossi raga Vabbè Bravi bravi Alza l'alta Abbiamo vattene in Brasile Olli Chi sarà il migliore ragazzi E invece sono io Proprio lui Mister spettacolo Quanto è bello mister spettacolo ragazzi Ho fatto pure il gol della domenica Questa è un'invenzione L'eroe Grazie grazie Lo sono lo sono Lo sono lo sono Proprio lui Ma ci vedi bene All'inizio Questa è un'invenzione Vabbè ragazzi Ma questa è la storia di Holly La dovete conoscere La dovete conoscere Vabbè ragazzi è terminato così La storia di Holly e Benji Come detto ci sarebbe l'opportunità anche di giocare la finale contro il Brasile Ma non so magari lo sblocchiamo Probabilmente lo faremo in live Ma c'è bisogno di giocarsi tutta la storia Quindi ci avrà un po' di tempo Ma io questa sera comunque vi vorrei Attendere in live Per giocare all'online Adesso credo che abbiamo sbloccato anche la Germania Quindi abbiamo tanti giocatori da infilare Nella nostra squadra di dolare E vi Dico ragazzi che l'online è veramente pazzesco Che da giocare è qualcosa di veramente clamoroso Cioè ti diverti un sacco Chiacchieravano un po' troppo Però per il resto è figo Qua stiamo vedendo tutti i tiri Dei vari giocatori È stato bello È stato bello Ragazzi a me non resta che darvi appuntamenti ai prossimi video Un saluto a tutti Grazie ancora Alla prossima Ciao ragazzi Ciao